La Fiat 600 La Fiat 500X con a bordo un uomo che ha rallentato di colpo. L'impatto è stato alquanto violento. Sul posto sono intervenuti la croce bianca del Canavese e i carabinieri. Il conducente della 500X è rimasto illeso. Lievemente ferito è il giovane alla guida della 600 che è stato trasportato all'ospedale di Quornier per controlli. La Fiat 500X La Fiat 500X